Ciao ragazzi, buona giornata di festa a tutti quanti voi, siamo tornati, non molliamo un centimetro a parlare di Juve, del futuro, di questa stagione, perché comunque abbiamo qualcosa ancora in ballo e ho chiamato degli amici per parlarne. Ciao Lu, bentornato. Ciao, ma si può iniziare un video con Fra che ride per i casti suoi, per le cose che gli passano per la testa? In modo totalmente immotivato. Ha un micromondo da una parte e poi ogni tanto si connette con noi. Tipo Bugs Live. Esatto. Comunque, ciao Fra. Grazie mille per avermi definito tuo amico, grazie, sono veramente gentile. Sono veramente gentile. Ricordati il bonifico ogni mese per questa definizione. Ciao Kino. Ciao, ciao a tutti. Ciao a amico Luca, ciao a amico Lello. Chi è andato a vedere l'Inter a vincerlo scudetto nel derby non è meritevole di essere considerato mio amico. Mi hanno detto che hai esultato anche. Probabilmente. Urlando sono 21 addirittura. Che l'unico che può permettersi veramente è Marco Sturama. Mi ha detto anche che ha fatto a botte col DJ che stava mettendo la musica tecno per coprire un po' la festa dell'Inter. Addirittura. Eh, che non voleva. Doveva mettere urlando contro il cielo tutte quelle canzoni che mettono a San Siro per l'Inter. E vabbè però ci sta giocare in casa al Milan. Cioè, tra. E Fra che si è arrabbiato col DJ? Ah, Fra pensavo Turama. No, 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 no. Per come stava andando avanti la frase anch'io avevo... Io vengo attaccato e non posso ribattere perché qua... Perché è vero. Infatti mi hanno spiato dalle telecamere, hanno delle clip. Ma che te l'ha fatto fare ad andare a vedere quello psicodramma dal vivo per un antinterista? Sono andato, sono andato a vedere, sono andato a vedermi la partita, mi sono andato a vedere il primo derby, volevo andare a vedere il derby di Milano, è una cosa che non avevo mai visto. Poi casualmente è capitata quella che è capitata. Ma anch'io andrei a vedere il derby di Milano. Le domande me le farei io sul carattamento. Però quella lì non lo so. No, 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 mi hanno dato questa possibilità e siccome essendo parte del mio lavoro ho detto sì. Prossima volta all'andata, Fra, eh, mi raccomando. Ho tutta il più in Coppa Italia, via. È stata una bella sedata di sport soprattutto quando alla fine Danfris e Teo si sono beccati lì proprio. Poi ci arriviamo, anche perché ci direi come hai visto il Milano dal vivo perché ci stiamo avvicinando alla sfida. Anche perché io su quella cosa ho un aneddoto, eh. Tipo? Tipo che un mio amico alle otto e mezza, sapete che secondo me c'è la riscia, Dunfristo e Hernandez? Facciamo una schedina, mettiamoci tre euro. Cinque mila. Allora, dovevo boccare. Io ho iniziato invece il post partita dicendo mancano pochi secondi. Spero che l'Inter non vincano lo sconetto solo perché per vincere al fantacalcio mi serve o un gol di Giroud o un gol di Calabria. Espulso Calabria e sono riuscito a perdere perché ho fatto 65. Cioè ragazzi, incredibile. No, vabbè, cacchio. Mamma mia, ma è raccontata così tanto, era scontatissima. Però se pensi che uno è entrato all'ottantacinquesimo e si è fatto buttare fuori dieci minuti dopo proprio con quello lì... Io avevo delle vibes negative su Dunfristo appena era entrato, nel senso che siccome c'è la fantacalcio, vibes negative per quello, prendi il rosso e lo so ha preso. Ma Dunfristo poi, dei miei amici l'hanno beccato in un bar a stazione centrale a Milano con dei suoi amici, era fuso come una campana ma gentilissimo. Infatti, ha visto sorridere e non sembrava nemmeno lui perché quando lui è entrato era incazzato nero, ma veramente incazzato. E' arrivato e invece era gentilissimo, si sorrideva a Piera e infatti ha fatto molto ridere come cosa. Dunfristo potrebbe usarlo come... c'è un personaggio molto simile a Dragon Ball, di una specie di cyborg o una roba simile, vi ricordate? Comunque, ha quella faccia là. Ti ricordi? Potrebbe essere non un cyborg, ma... Un roba tipo Cell in quel periodo? Non mi ricordo. Dopo ti mando quello che... perché non mi ricordo come si chiama. Dopo lo metti in post-produzione in PNG, eh? Esatto, esatto. Non mi ricordo il nome. Allora, però, parliamo di questo Lazio-Juve, siamo riusciti a passare il turno. Vostre impressioni? Tanto, vabbè, avete già parlato ampiamente nei vostri canali, se c'è però qualcosa che volete approfondire, anche nel cambio comunicazione di Giuntoli nel pre-partita, perché si è appellato un po' a quella che è l'analisi emersa da OpenVar sui zero on-field review a nostro favore. Vabbè, dai, parto io allora, perché questa cosa non mi è piaciuta. Non tanto per gli a zero on-field review, ma per me ci sta lamentarsi di un episodio arbitrale che dà particolarmente fastidio. Infatti ho apprezzato l'anno scorso quando l'episodio salernitana è stato messo in primo piano. Sì, perché sono delle cose, francamente, che non possano passare inosservate. Però quando invece la butti in cacciara dopo 12 punti in 12 partite e dici, sì, però anche gli arbitri, un dirigente sportivo deve guardare altre cose dopo 12 punti in 12 partite. Un conto è se lo fai presente nello specifico episodio, detta così, letta così, sembra quasi veramente una gran bella giustificazione della serie. Sì, vabbè, ma non è che siamo scarsi noi, eh? Cioè, guardate che ci sono altre robe. Tu dici il timing, nel senso, se è fresco, è caldo il momento, tu lo fai, lo sottolinei. In quel caso, anche perché rispetto anche alla partita col Cagliari, a Cagliari lui dice, siamo contenti dell'ottimo lavoro fatto da Allegri. E va un po' a contrapporsi questo discorso degli arbitri rispetto a quello fatto. Anche perché era sbagliato quello come discorso. Cioè, va bene tutto, va bene il politichese, però non raccontiamoci frottole, anche perché nelle ultime 14 partite, la Juve 23, ne ha perse 5, ne ha pareggiate 6. Se questo è un ottimo lavoro, io sono il papa. Eh, ma d'altronde a te ti viene da criticare perché hai fatto troppi punti nel giro di andata, dai. Certo. Anche quella, ragazzi, vabbè. Ma infatti, infatti, se non avessero costruito le torri giardini, i terroristi non avrebbero mai buttati giù, quindi non è colpa dei terroristi, alla fine è colpa degli americani che le hanno costruite. Cioè, è un concetto di fondo, ma comunque rende. Un concetto di fondo è quello lì, ecco. Sì, sì. Non avessero fatto dei palazzi così alti, non li avrebbero mai buttati giù in quella maniera, ecco. Questa è la sintesi. Ma fra la tua cosa delle torri giardini, Lello, che ieri o l'altro ieri ha citato i desaparecidos, sono due cose che mi hanno... Era ieri, mi sa, nel post partite, desaparecido di Plaza de Maio, mi sa. Io mi sono limitato ad utilizzare Casper, il fantasmino carino e simpatico. Della Disney. Della Disney, no? Dreamworks. Sono delle cose che rafforzano, sono delle cose che rafforzano. Voi che ne pensate, Kino e Fra? Di cosa? Della comunicazione in Juve, del cambio, no? Eh, davvero. Di Giuntoli, no? Di Casper, né di Torri Giavelli né di Plaza de Maio. Sì, diciamo che concordo con quello che ha detto Luca, allo stesso tempo sono anche dell'idea che il tutto sia arrivato un pochino troppo tardi. Perché se poi, ad esempio, magari senti Ragneri da manicomio nel post partita di Cagliari-Juventus, tu avevi appunto anche la possibilità di dire, sì, Nani, ascolta, dopo sei minuti manca un calcio di rigore grosso come una casa. E allo stesso tempo rimango dell'idea che se Open Bar deve continuare così per l'anno prossimo valuterei seriamente di chiudere. Sì, anche perché sembrano più propensi a cercare giustificazioni sull'operato di arbitri anziché spiegare anche l'errore. Sì, esatto, che poi anche lì quello che c'era il vertice della Cannes, com'è che si chiama, a una certa dice, sì, effettivamente era calcio di rigore, ma se poi veramente io devo stare a sentire che cosa si dicono al VAR, a me viene, mi viene paura, perché sentire certe cose è veramente da paura. L'arbitro di campo se mi dice, oh, non è niente, cosa gli vuoi dire? Era coperto, magari azione veloce, dinamica, oh, va bene. Se te da 3-4 in quadrature, a rallentatore, tranquillamente seduto davanti a una scrivania, dici quello, c'è qualcosa che non torna. Manca l'uniformità di giudizio, come dice Calvarese da tutto sport, ha parlato dell'uniformità di giudizio. Se andate a vedere, banalmente, il contatto tra Immobile nella partita con la Lazio e Bremer, che c'è il check del VAR, per capire se c'è stata condotta violenta, rispetto a quel che non è stato fatto in occasione di Alcaraz, banalmente con Minna dentro l'area, beh, c'è, secondo me, un'attivazione del VAR in base ai momenti, in base a chi c'è. Non è uniforme, c'è, in certe partite viene fatto bene, in altre meno bene, ma c'è troppo dislivello tra una partita e l'altra. Però il problema non è Open VAR, è proprio l'arbitro, è proprio come vengono gestite queste cose, cioè, le riguardiamo meglio noi davvero quando passano i replay che quelli che... Ma la cosa che devono fare, Lu, la cosa che devono fare è mettere i varisti a fare i varisti e basta. Cioè, nel senso, guardano quello, sono specializzati in quello. Specializzare, fare una specializzazione. Sì, che poi, Lello, anche qui, allora, io ti do ragione, ma probabilmente, cioè, veramente, basta il primo replay per capire che tre secondi prima di prendere il pallone gli scaraventa una gomitata nella testa che lo apre. Cioè, va bene il varista specifico, ma anche l'arbitro normale, tecnicamente, davanti a un monitor. Sì, però capisci che, secondo me, la specializzazione è la migliore cosa. A parte che tu dai un po' più di vita agli arbitri stessi e si specializzano in quello, sono esperti del regolamento e ti guardano bene tutto. Però hai delle categorie. Perché se tu metti Errati, che passa da fare l'arbitro in campo, il quarto uomo, l'arbitro nello schermo, Sì, sì, per carità. Ma infatti la cosa che dà noia è che nessuno abbia protestato lì in campo per quella roba lì e ieri sera invece si erano impazziti per una rimessa laterale che tra l'altro era giustamente della Lazio. Cioè, sembra che anche i calciatori in campo abbiano un po' perso il distacco dalla realtà. Sai anche proprio quando... Cioè, per me è un episodio anche solo simile. C'è proprio in Cagliari-Juventus, quando all'ultimo Danilo chiede quel calcio di rigore per il Mani quando non è letteralmente Maimani, dove già più sarebbe stato comprensibile che anche Vlaovic prende una discreta botta nella bocca nel secondo tempo. Sono andati a protestare per l'unica che... C'è nulla. Ma perché? Sai cosa invece io? Io penso che siano sperate più che altro le tempistiche perché se mi avessero fatto un discorso del genere dopo la gomitata di Alcaraz l'avrei ben compreso perché secondo me non è sempre cosa buona e giusta stare zitti e far passare tutto, ogni tanto bisognerebbe anche far uscire, come si dice, il franotte carattere, passate il mio termine, far sentire la propria voce anche perché è giusto che tu possa recriminare e protestare civilmente facendo sentire la tua voce in maniera educata e verso quello che non trovi che sia stato corretto. Ieri non ho capito il motivo, probabilmente anche perché hanno appunto hanno preso la palla al balzo di dell'analisi che era stata fatta anche da Calvarese hanno detto approfittiamone però secondo me era più consono fare questa cosa quando, come ha detto Chino, quando ti viene fatto un, fra virgolette, torto arbitrare questo era nel suo momento. Voglio farvi vedere una cosa che non vedrete. Però condivido quello che hai detto Giuntoli. Voglio farvi vedere una cosa che non vedrete. A voi ragazzi da casa non lo potete vedere perché altrimenti mi fanno uno strike perché si tratta di un'azione particolare che a me ieri ha fatto impazzine mi ha fatto proprio sclerare l'avevo messo su Twitter ma poi mi sono accorto che avevo registrato l'audio ed ero in una chiacchierata su Discord e quindi ho dovuto togliere il video per cui dettagli ma levo direttamente il pezzo e vi faccio vedere ragazzi è il minuto 63.20 e c'è quest'azione qua io qua ma ieri ne abbiamo fatto un sacco uscite alla cazzo di cano perdonatemi il termine è proprio così uscite è il termine tecnico cioè ma vi sembra normale che una squadra al terzo anno faccia degli errori simili ma poi ho preso uno ma è uno di tanti e questa a me è la roba che mi fa incazzare ancora a me viene in mente un'altra vai verso fine primo tempo 2-0 per l'Alessio minuto credo 41-42 una roba del genere scusa 1-0 per l'Alessio e loro sono lì che non ce ne hanno più per il primo tempo e devono un attimino rallentare quindi si mettono a difendere nella loro metà campo noi abbiamo il pallone loro non ci stanno minimamente pressando iniziamo a girare palla siamo praticamente a centro campo loro non ci pressano non si schiodano da lì e noi perdiamo metri girando il pallone noi senza nessun pressing loro invece che andare in avanti andiamo noi all'indietro motivo boh con Allegri che dice girala, girala, girala sì però girala deve avere un senso cioè non ha senso girarla per girarla non è che ti danno un punto se la giri sai dove sono impazzito in senso opposto invece quando c'è quell'azione dove Vlaovic sbaglia la sbaglia sì è stata l'unica bella poi fa una bellissima secondo me bella assione della Lazio io gli ho detto cavolo si dice che i giocatori non siano in grado ma un'azione del genere dei giocatori che non sono in grado di farla non la fanno è stata una bellissima azione con l'inserimento di Rabiot-Chiesa che riceve una palla non tanto e riesce a controllare una palla non tanto facile mette la palla in mezzo un cross dopo Vlaovic poi perché gli arriva troppo forte perché gliela devia non lo so la calcia non benissimo però comunque c'è arrivato la calciare in porta io lì sono fra vivetti impazzito in senso opposto infatti è stata una bella una bella azione che a differenza di tutte le altre però è stata costruita la giornata sembrava quasi che fosse preparata sì io ti dico come se fosse no una roba straordinaria quello no quello che mi fa non arrabbiare però dico cavolo si dice che non siano in grado a me pare che questi giocatori anche al giornale d'andata se vengono messi in campo con un'idea tattica le azioni le sappiano fare le sappiano fare anche molto bene quindi questo è quello che mi fa più arrabbiare rispetto a quello che hai fatto che hai fatto scusa scommetto che chi è andato verso la banderina si è allargato verso la banderina e è tornato indietro e fa sì ha fatto quello ieri molto spesso faceva quello perché c'è confusione non so eh vabbè non c'è non c'è un cavolo di organizzazione ma ripeto al di là di tutto nella mancanza di organizzazione però ci può essere qualche movimento senza palla invece tutti vogliono da fermi la palla significa trasmissione della palla molto lenta perché non hai sempre la linea di passaggio facile se non tocca tornare indietro fai quel giro palla a sterile di cui parlava Luca e non c'è neanche un'uscita quell'azione di cui hai parlato tu Fra c'è tutto c'è trasmissione della palla molto rapida perché è tutta di prima intenzione secondariamente c'è l'occupazione dello spazio da parte di tutti un'aggressione in avanti cosa che non si vede mai e non c'è neanche una voglia di ripetere quel tipo di situazione nell'arco della partita è stato un episodio sporadico episodi cioè proprio una cosa episodica è definita là è quella la cosa che però vi dico anche un'altra roba parliamo anche di singoli perché io da Cagliari in poi sono molto arrabbiato anche con i singoli io da prima io da prima di Cagliari ah no Cagliari è stata l'apoteosi secondo me dell'entrare in ciabatte io io sono molto triste perché vabbè ieri e poi era una giornata particolare cioè ci hanno raccontato per mesi il motivo per cui questi 12 punti 12 partite sono arrivati è perché dopo Empoli l'Inter è scappata via e abbiamo perso di vista l'Inter e noi volevamo qualcosa di più lo sognavamo la sera prima sono andati tutti a letto alle 9 non hanno avuto modo di vedere la partita non si sono accorti che l'Inter ha festeggiato allora almeno anche solo quella rabbia di dire cazzarola se l'abbiamo buttata via noi stagione perché volevamo quella roba lì hai visto che l'hanno vinto gli altri scendiamo in campo incassati nemmeno quello perché Allegri tra 5 partiti di campionato 1 di Coppa Italia molto probabilmente sarà esonerato allontanato dalla Juventus ma tanti di questi giocatori rimarranno alcuni no ma altri sì e con che coraggio si guardano allo specchio io voglio essere anche un po' populista in questa roba qui mi dispiace ma voglio esserlo la Juventus ha i costi di gestione più alti in Italia insieme all'Inter cioè se sono un dirigente della Juventus non posso non pensare a questa cosa e dire questi da febbraio a giugno si sono prese delle ferie che non gli sono state concesse quindi lo stipendio va guadagnato la maglia della Juve va onorata la stagione finisce a giugno non finisce a febbraio ecco questo è cosa che sono molto io mi sono incazzato perché all'atteggiamento in ciabatte ma poi guarda noi rientravamo da una partita di Champions tra City e Real non voglio fare il paragone perché sarebbe ovviamente ingeneroso però sai guardi quelle partite perché chi è calciatore fa quel lavoro le guarda cazzo ma l'acquolina in bocca per l'anno prossimo non te lo fai venire guardando quelle partite e vai e mi affronti il Cagliari che è un appresario tutt'altro che proibitivo anche se in un buon stato di forma cioè vai ad abbordarle in quel modo con quella sufficienza con quella poca voglia poi come dicevi tu altra competizione a se stante la Coppa Italia approcci in questa maniera con la Lazio si è andato anche in difficoltà perché sul 2-0 tutti abbiamo temuto per il peggio poi c'è stato un minimo di reazione ma sai cos'è l'anno scorso purtroppo sono discorsi ciclici che tornano fuori e continuiamo a farci ieri sera Allegri ha detto che è un anno e mezzo che la Juve non gioca partite di questa importanza perché l'anno scorso con tutto quello che è successo extra campo era troppo difficile però diavolo ma sì ma prima abbiamo giocato un girone di Champions che abbiamo fatto schifo 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 poi se sono lì che ti tolgono i punti in campionato ti li rimettono non sai cosa succede sei in Europa League sei in Coppa Italia quelle partite lì le giochi uguali sono altre competizioni cioè l'anno scorso è perché l'extracampo e quest'anno è perché l'Inter l'anno prima è perché Ronaldo però ragazzi cioè a un certo punto poi bisogna anche cercare di capire non è che tutti gli anni si gode di credito infinito che sia l'allenatore che sia il giocatore se il gruppo squadra non è in grado di concentrarsi su una competizione extra serie A dove lì è tutto il diritto del mondo ad essere incazzato deluso frustrato che non riesci perché cavolo i punti che ti danno ti tolgono dall'altra parte c'è dei trofei che ti puoi portare a casa che possono salvare la stagione dal punto di vista sportivo e anche umorale non sei bravo non sei forte va bene ci sta vai a casa ma sentirmi dire che quest'anno poi è però dai dopo gli altri sono scappati via allora se sono scappati ieri sera hanno vinto lo scudetto ed è un'altra competizione tu hai la possibilità di far vedere che invece vai ancora sotto di due gol esattamente come col Cagliere allora c'è qualcosa che non va ed è più ampio rispetto all'aspetto mentale l'aspetto tecnico l'aspetto organizzativo e anche l'aspetto degli arbitri è che qui ci siamo abituati a dirci sai cosa il minimo va bene uguale non è vero esatto sono perfetto c'è un discorso che abbraccio totalmente tu Chino? ah no c'è obiettivamente c'è poco da c'è poco da aggiungere penso abbia fatto un'analisi veramente completa a 360 gradi che condivido in tutto e per tutto cioè proprio diretto così è che fa arrabbiare sta roba il problema è che questa roba fa arrabbiare a me fa arrabbiare ieri ragazzi è la prima volta che mi sto iniziando ora di nuovo su Twitch a cazzeggio così guardo le partite e interagisco con la chat è la prima volta che l'intollerante nei confronti di qualsiasi cosa venisse fatta in campo cioè vedevo qualcosa di sbottavo cioè io non ho mai vissuto la Juve in questa maniera sbottando ad ogni azione cioè sta arrivando veramente neanch'io però non sono io l'anno scorso veramente ho fatto fatica di fare per i motivi di prima cioè guardavo la partita e dicevo vabbè la vinciamo tre punti al massimo ce li tolgono pareggiamo un punto al massimo ce li tolgono perdiamo la stessa roba solo in Serie A l'anno scorso ero arrivato veramente a non riuscire a godermi cioè è proprio una roba che quest'anno sono qui invece dicendo guardo lato positivo e una in meno per finire questa stagione sperando che la prossima sia la bocca ma probabilmente un pochino tutti anche loro verso l'ottantesimo avevamo iniziato a dire o una o l'altra un'altra mezz'ora così vi pregono concordo sarebbe stata lunga sarebbe stata lunga e appunto io ero convinto di andare ai rigori ieri sera io ero convinto che la Lazio in qualche modo sarebbe riuscita a portarla fino ai ai rigori e poi lì te la saresti giocata però cioè ieri ero io ormai sto vivendo le partite in quest'ultimo periodo un po' cioè cavolo come se vabbè cioè la guardo ma non non è che non sono più attaccato mi sto mi sto un po' scemando fra virgolette non la passione perché non è nemmeno giusto ma non sono attaccati neanche loro cioè come fa il tifoso ad essere attaccato se non sono attaccati loro posso dire posso dire che secondo me alcuni sì ma ci sono molti giocatori invece tipo che la grinta ce la mettono sempre ma indubbiamente ma per dire per me tutti dovrebbero respirarsi a gatti per dire o al Vlaovic di questo girone di ritorno cioè ci sono due o tre che ovviamente li metti sopra però per parlare del generale Rabiot fa una partita di calcio buona ieri dopo delle ferie non giustificate ieri Rabiot bene perché ieri Rabiot è tornato a fare una partita da Rabiot ma quant'è che non lo vedevi con il Cagliari io non ho capito era un mistero il perché fosse ancora in campo io Kostic ieri sera mi sono ricordato che stava giocando perché quando ha cambiato cambiaso ho detto figa ma chi c'è dall'altra Kostic ma come non me lo ricordavo ieri c'era una bella fascia sinistra mamma mia a parte che Alessandro ha marecato lì in quella situazione come ha marecato l'aio a parte che l'ho anche aiutato quasi Castellanos per il gol nella dinamica del gol sì sì gli ha dato quel colpettino per andare un po' più in alto però posso dire ormai Alessandro ha un po' la nuvoletta di Fantozzi cioè qualunque cosa faccia poverino cioè in senso metaforico naturalmente poverino vero ma ieri ha sbagliato gravemente però sbaglia ancora i più chi lo mette in campo ragazzi perché lo sai l'errore l'ha fatto sì ok però l'errore l'ha fatto poi non è che abbia fatto una partitaccia cioè nel senso ha fatto quell'errore ovviamente perché ha sbagliato non è però la combina quasi peggio Danilo nell'intervento a metà nel passaggio che parla per anche Bremer su Tati per questo che ti dico sembra che Alessandro ha la nuvoletta di Fantozzi tipo Bernardeschi quando entrava col Barcellona e provocava il rigore quello e gli cascava la palla cioè ormai Alessandro vive con questa nuvoletta il punto è che secondo me se gli avessi chiesto Alessandro tu ti schiereresti il titolare questa sera lui ti avrebbe risposto ma che sei scemo no cioè neanche lui avrebbe detto il merito di giocare questa partita guarda 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 capisco che sparare sulla croce rossa e incazzarsi ora col povero Alessandro ma ormai è così prendiamola la buona cioè tanto ormai cosa vuoi fa però ragazzi vi dico adesso noi siamo passati in finale ciò significa Supercoppa l'anno prossimo e andiamo in Arabia è una forbice tra 51 mi pare partite 69 dipende poi da quanto vai avanti in Champions dipende se arrivi in finale di Supercoppa finale di Coppa Italia sono tanti impegni tanti tanti impegni allora io ho fatto la supposizione no Tiago Motta potrebbe arrivare alla Juve il nome più papabile no per l'eventuale successione a Massimiliano Allegri però io vi dico sono preoccupato di due cose una Tiago Motta chiede un lavoro anche agli esterni ho visto anche la partita con la Roma dove Endoglia fa dei recuperi quasi al limite dell'area in fase difensiva c'è da essere aggressivi eccetera quindi la disponibilità dei calciatori e la dedizione al sacrificio quando c'è da difendere il risultato e anche la grande voglia di fare quella corsa in più in avanti quando c'è da attaccare dopo che hai fatto quel lavoro sfiancante quindi la disponibilità dei giocatori che è qualcosa che non ha avuto né Pirlo pienamente perché non ce l'ha avuta né tantomeno Sarri e l'altra è il numero degli impegni perché quel tipo di lavoro che propone adesso Motta giocando una volta a settimana risulta sostenibile con la rosa che ha però ovviamente quando hai tanti impegni sarebbe una grande profondità di rosa a parte che sarà un casino per il giunto ricostruirla perché ci saranno tanti adi e tanti arrivi quest'anno perché avremo tanto da lavorare a livello di contenuti tra chi arriva e chi va via però sono queste due le perplessità che ho per qualsiasi allenatore che arrivi lasciate stare poi adesso abbiamo preso in esame Motta per il gioco che fa ma c'è un discorso che avrebbe anche con la permanenza di Allegri comunque più che altro per il secondo aspetto il discorso è bisogna bisogna capire quanto Giuntoli sarà bravo a fare il lavoro che gli verrà chiesto da Motta perché ipoteticamente se Motta ti chiede un grande sforzo agli esterni sto al momento sugli esterni hai quanti giocatori che possono giocare nel 4 il 3 1 ipotetico adesso i Rosa l'anno prossimo quelli che ti rientrano in teoria sarebbe bello se rimanessero perché anche i Ling può fare quel lavoro sull'elite può fare quel lavoro per me i Ling è un estè comunque i Ling sulla fascia che corre questo è quindi tu vai ad aggiungere anche il lice che ti può fare quel lavoro però un po' più un trequartista cioè tu ne hai di giocatori bisogna essere in grado di creare quella rosa e quella profondità di rosa anche perché Milik forse andrà via Costi andrà via bisogna capire anche perché il lavoro che richiede i difensori è un lavoro molto dispendioso dal punto di vista fisico Bremer probabilmente ti partirà bisogna capire anche chi arriverà al posto di Bremer perché bisogna avere un difensore secondo me oltre ad un ipotetico Cara Fiori è un difensore di maiuscola già pronto che ti possa dare una mano subito o probabilmente ti va via Hausen perché anche qua io non sono così convinto che rimanga poi vedremo Chiesa punto di domanda un altro che potrebbe farti l'esterno o non possono partire tutti anche perché se no se Tiago Motta arriva e dice mi vendi Bremer mi vendi Hausen mi vendi Sule mi vendi Chiesa con chi cazzo gioco io ma pensi che se dovesse rimanere al Bologna ci saranno gli stessi di quest'anno Ferguson ti riprende l'anno prossimo vabbè col crociato ok abbiamo capito però per me ma sai che secondo me forse Ziggs è una stagione ancora se la fa Bologna dite di no Calafiori secondo te la fa? no se arriva la Juve no sai che cos'è Fra quando tu tochi il punto più alto e l'anno prossimo magari rischi anche di uscire dalla Champions quel valore è scema sì sì capito vero eh ipoteticamente però magari sai il discorso è Tiago Motta se viene alla Juve perché è giunto lì gli ha fatto una certa promessa e per rispondere anche alla domanda di Lello con Pirlo e Sarri il discorso di edizione totale del lavoro era perché c'era tanta spaccatura nella società adesso non ci sono più fra virgolette cazzi adesso o se quello che ti dice Tiago Motta perché c'è Giuntoli che comanda oppure sappiamo come Tiago Motta anche con gli attaccanti che ha messo fuori Arnautovic ne ha fatti fuori un po' anche in Zola quindi secondo me o segui lui oppure stai fuori e vieni ceduto questo è quello che penso quindi serve anche un quel tipo d'allenatore col carattere molto di Conte cioè che dice mi segui punto che fa scelte anche in popolari nel senso a livello di valori della Rosso beh basta che sia rispettato dallo spogliatoio cioè basterebbe quello perché c'è stato un periodo anche quest'anno in cui io avevo proprio la sensazione che i giocatori avessero accettato di fare qualcosa che non volevano fare che non gli piaceva fare ma che l'allenatore gli chiedeva ed è stato quello che ha permesso la Juve l'unità di intenti generali andare tutti in una stessa direzione con l'Empoli in poi questa roba non c'è più stata perché dal punto di vista tattico è la stessa minestra semplicemente tutti si fidavano di quella roba lì adesso non si fidano più io su Tiago Motta ho una gran paura che però è stato bravo lui a farmi passare con una risposta nell'ultima conferenza stampa perché Tiago Motta sviluppa io ve le sto guardando tutte da quando il nome di Tiago Motta è diventato forte per la Juve e ne ho recuperate anche tante che non avevo visto del Bologna di quest'anno lui tende a sviluppare molto il gioco nella propria metà campo per liberare lo spazio con una ragnatela di passaggi che permette agli avversari di uscire dalle posizioni e quindi guadagnare spazio per crearti la ripartenza col palleggio la Juve abbiamo visto che è più efficace quando va a gradire in avanti anche l'inizio anno abbiamo visto che Chiesa Vlaovic McKennie che si alza sul braccetto cioè la Juve è brava a fare quella roba lì il Bologna non è una squadra nota per il pressing invece negli ultimi metri a volte ti tende anche a far giocare è una squadra che difende anche bene a blocco basso quindi sono proprio due cose differenti però Tiago Motta l'altro giorno ha detto il calcio è evoluzione quindi io sono convinto che lui non verrà a ricalcare l'orma del suo Bologna con quello che avrà a disposizione esattamente con quello che avrà a disposizione cercherà di fare ma lui ce l'ha comunque la malleabilità ce l'ha la malleabilità rispetto ad altri allenatori che a me fa girare un po' le scatole il discorso di Tiago Motta come se fosse il gran filosofo che ha la sua idea cura non è assolutamente così cura ogni aspetto dalle transizioni alla fase difensiva alla fase offensiva cura tutto perché quella è una squadra che sa difendere come dicevi tu a blocco basso ogni tanto ti accetta anche ti accenna anche il pressing accetta anche la forza degli avversari lo accetta per cui sa difendere ripeto anche in maniera bassa sa anche però ripartire con qualità cioè i giocatori fanno i passaggi di prima perché sanno che i riferimenti ce li hanno da una parte o dall'altra e il gol di Salemakers che vada solo a fare lo scavetto e anche quel passaggio che fa Zirkze è intanto occupato bene lo spazio orientato verso il senso giusto perché sa che troverà lì il suo riferimento noi in una situazione simile sai che succede? che abbiamo il nostro Zirkze attualmente girato dall'altra parte del campo che deve avvitarsi su se stesso per trovare il compagno e nel frattempo sono rientrati tutti persino l'attaccante della Roma e lì a difendere dietro la linea della palla c'era contro la Lazio nel primo tempo un possibile contropiede con Kostic che c'era alla destra e non la munisce si allenti noi da questo punto anche nelle transizioni che praticamente è anche una cosa che potresti imparare nei movimenti sai anche Lello come hai detto te il discorso Tiago Motta ha dimostrato questa stagione di non essere quel come integralista non è Zeyman per intenderci non è neanche italiano non è un Sarri che dice io ho questa idea tu la devi applicare la applicherò in qualunque contesto anche se non c'è Zecca un cazzo secondo me Tiago Motta ha avuto la capacità questa stagione io l'ho vista Juventus-Bologna era un Bologna non bello ma comunque organizzato efficace però quello stesso Bologna che dicevi cavolo come gioca tra virgolette Mali in quella partita ha giocato molto peggio rispetto ad altre partite è riuscito comunque a portarti a casa un punto la partita dopo ha fatto tipo il camaleonte ha cambiato ancora con l'Inter cambiato ancora si è portato a casa il pareggio e poi la vittoria in Coppa Italia quindi secondo me Tiago Motta ha quella capacità di usare la rosa usare la rosa per quelle proprie idee mischiare e trovare il giusto mix che secondo per me può essere quella chiave che dovrà in qualche secondo me potrebbe anche funzionare ti dico tornando al tuo discorso nella partita con la Roma leva Zirkze che è un tipo di attaccante che ti fa tanto gioco mette Castro 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 è un giocatore secondo me più di profondità che attacca la profondità che giochina avanti costruiscono per il 4 a 1 sono i centimetri a salvare la Roma dal 4 a 1 sì perché Castro fa gol ma è un fuorigioco quello primo no ma poi il discorso di Fra è giusto da un attimo no no dico no no una cosa poi cambiamo il discorso di Fra è giusto che se ci pensiamo è anche il discorso che fece Conte quando arrivò la Juventus perché io me la ricordo quell'estate tutta l'estate dire giochiamo 4-2-4 giochiamo 4-2-4 Conte ha sempre giocato 4-2-4 e quindi giocherà 4-2-4 arriva fa la prima partita Juve-Parma 4-1 meravigliosa io ero allo stadio per l'esordio dello stadium è stata un'emozione meravigliosa vinciamo col 4-2-4 poi entra Vidal fa gol nella prima partita e inizia ad avere un po' di dubbi ma Pirlo me la regge tutto l'anno è così e allora si passa a 4-3-3 fino ad arrivare alla sfida col Napoli dove facciamo 3-3 a Napoli dove ci mettiamo a 3 quindi quella stagione lì è stata un'evoluzione e poi Conte non si è più mosso dal 3-5-2 ed è diventato l'icona del 3-5-2 ma Conte parte 4-2-4 poi gioca 4-3-3 e poi arriva 3-5-2 quindi io mi immagino ha fatto anche il 3-4-3 comunque 3-4-2-1 sì 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 però la dicevi volevi passare un altro no il mio discorso è proprio per cambiare totalmente ma rimanendo comunque il tema ieri quando la Juventus era sotto e stava per uscire mi sono detto ma cavolo ma se stasera Juve esce come affronti poi il Milan come come se tu non dai una scossa con l'ambiente che in questo caso secondo me era comunicare il giorno dopo anche con un comunicato l'esonero di Allegri come l'avresti sollevato cioè come l'avresti affrontato una squadra che io ho visto dal vivo il Milan ed è messa peggio di te perché ha preso tre cazzotti di Mike Tyson uno dietro l'altro adesso come l'affronti esatto come l'affronterai sabato adesso no no ma in caso del io sto pensando tu Juventus ma sì come affronti questo Milan se tu fossi uscito erano due squadre che veramente erano e adesso invece che UEA ha sbagliato a tirare per fortuna Milica io ho quella scena la scena di UEA che tira e la palla esce l'ho descritta come Fra quando lui calcia da Furiaria dalla lontanissima alla YouTuber League cioè lui se l'ha fatto già il film ma me lo auguro ma lui se l'ha già fatto il film regala la Juventus la qualificazione minchia l'ha tirata due metri dalla porta per fortuna che Milica ha fatto quel movimento perché aveva capito che stava tirando e tra l'altro fa riderissimo perché Milica ha toccato sei palloni ha fatto due passaggi li ha sbagliati tutti e due ha perso quattro volte il possesso palla e poi fa gol e diventa l'errore alla treseghe nell'arco dei 90 minuti però ha fatto una lettura una lettura meravigliosa lì è proprio che scommette sull'errore del difensore e soprattutto del tuo compagno è del tuo compagno tu hai scommesso su tutto bravissimo no però ha fatto veramente un movimento d'attaccante non ci ne si sa di due che a Vlaovic manca ogni tanto questa cosa perché anche nella situazione di McKennie dove viene chiuso da Marusic se va con quella cattiveria è una totale ingiustificate eccessive le critiche a Vlaovic no no anche io ieri sbagliato nel senso ieri ho visto 5 pagelle 5 e mezzo 4 ho detto cazzo nel primo tempo era uno dei pochi che ci credeva secondo tempo andava comunque a fare sbordellate con tutti il discorso che facevo prima io non vedo una mancanza un impegno da parte di Vlaovic poi 5 e mezzo ieri Vlaovic 5 e mezzo perché quegli errori che fa pesano se hai due palle gol e le sbagli tutte e due difficilmente riesci ad avere la prima rispetto al secondo non dico più gravi uno o l'altra però se ne hai due e tutte e due ne sbagli ma quella pagella ti entra al posto tuo tempo due minuti la butta dentro 30 secondi la pagella la pagella poi è così pesa tanto perché la Juve ha avuto quelle chance e basta anche a Wea gli dai 6 in pagella perché fa l'assist ma Wea ha fatto una brutta partita è entrato ha sbagliato 7 passaggi ne ha fatti 8 ieri su Mediaset gli è andato 8 e mezzo sì sembrava un po' rinco io gli ho dato 6 per dire basti vedere quello che è stato il post partita di Mediaset per capire che era tutto in preda al delirio cioè nel senso non nella roba specifica tra interviste e commenti direi che va bene però io voglio ringraziare Zazzaroni perché ieri sera ha finalmente annunciato di essere allegriano io non me ne ero accorto quindi no infatti quando l'ho sentito cazzo ma davvero ma l'ha nascosto benissimo fino ad adesso quindi sono contento che l'abbia detto invece colleghiamoci sabato voglio arrivare là perché avevi fatto il gancio giusto prima parlando del Milan hai visto te situazione Milan allora il Milan ha Furi in difesa Tomori Calabria e Ternandez cosa mai potrebbe andare male in vista di sabato guarda facciamo così facciamo così fai il bigliettino e ce lo fai vedere intanto che Luca prepara sai cosa e dici come l'hai vista come l'hai vista l'erby vai allora io voglio fare un discorso serio aspetto Luca che fa la cazzata oppure ah no no vai pure tanto per come andrà a Juve Milan si fa così ah i dadi i dadi i dadi ah estrazione quanto? non vedo non lo vedete ma c'è scritto X ha fatto 1 X e 2 X X ok classica cosa che mi aspetto allora io ti dico dal vivo il Milan mi è sembrata appunto prima una squadra morta senza idee senza voglia senza grinta senza cattiveria proprio a peggio della Juve anche hai visto come le hai viste entrambe si si credimi si perché il Milan mi ha deluso ancora di più perché aveva una motivazione ancora più valida per non far vincere lo scudetto all'Inter quanto meno lì esatto quanto meno lì perché eri in casa sua stadio pieno curva che ha fatto un casino assurdo coreografia bellissima cioè comunque impressionante trovarsi col muro hai la voglia di riscattare comunque una sconfitta con la come si dice con la Roma cioè c'era tutto c'erano tutti i motivi validi per far bene almeno quella partita o meglio dar più fastidio possibile all'Inter perché era difficile vincere ok ma al Milan è sembrato davvero ho fatto il paragone dicendo che l'Inter sembrava quel pugile che si mette all'angolo e fa stancare l'avversario cioè dice colpisci tanto prima o poi ti faccio a K-O io in tre secondi ed è quello che è successo l'Inter ha fatto tre o quattro contropiedi paurosi cioè io non il gioco era palla a a Loftucci che andava a occupare la zona di Giroud che avrebbe dovuto occupare Giroud palla su Musa Musa che cercava il cross lì fa un miracolo magnano una volta Sommer una volta però il Milan è veramente cioè io infatti vi ho mandato il messaggio ho detto se riusciamo ad arrivare se la Juve riesce ad arrivare sotto questo Milan ci fa capire la stagione che sta facendo la Juventus perché veramente questo Milan per me che arrivi sopra sotto la Juve e il Milan no nel senso non c'entra niente la classifica però dai cioè guarda che veramente il Milan poi la parte più bella della parte del Milan è stato quando si sono presi a legnate e lì si sono gasati tutti ma penso che partita è la parte più bella della Sudolingia no ma poi dal 95esimo tra l'altro che meraviglia come mi ha detto ad un fru dai fai dentro fai cacciare fai bordello che tanto ormai che la meriti però infatti ero uscito dallo stadio sul pugno di Calabria ero uscito perché se no lo conosci più e ho sentito un urlo quasi quando è stato rosso quindi però allo stadio Milan veramente brutto 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 Raffaele non lo sentivi non lo percepivi quasi come se avessi bisogno anche lui di una scossa tutto l'ambiente di una scossa tutto 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 come noi anzi ti dico forse peggio perché loro hanno preso due lignate talmente forti nel giro di una settimana che sono ancora più sottoterra di noi in queste momenti ma l'eliminazione con l'Inter è chiaro anche con l'Inter ragazzi è tosta ma molto tosta cioè infatti volevo sapere la vostra per me finisce un pareggio uno 0-0 o un 1-1 proprio di quelli brutti ma poi ragazzi sono due squadre in questo momento che può essere tre cioè può vincere 5-0 il Milan 2-1 la Juve cioè può veramente succedere qualsiasi cosa anche 5-0 la Juve potrebbe vincere no questo non credo gioca senza difensori Luca e quindi ma non lo sai adesso io avrei da ridere vabbè cioè tu scommetteresti mai un euro sul 5-0 della Juve se mi dici di sì noi mettiamo uno a testa facciamo un 4-0 se vuoi buttare via un caffè va bene buttiamo via un caffè ma per me è un pareggio scritto sì ovvio pareggio scritto ma Pino ma io dai giusto per stonare dico che la vinciamo però vai chi è una botta di ottimismo mamma mia però razionalmente cioè è veramente oggettivo che vedendo la situazione Juve situazione Milan che vinca una che vinca l'altro che finisca in pareggio dici bella anche perché probabilmente entrambe le tifoserie fanno il conto alla rovescia e basta però io vi dico che invece noi questa partita non la vinciamo non so se la perdiamo ma per un solo motivo ho imparato a conoscere i miei polli e sono dei polli che finché non hanno il pepe veramente al culo fa lo stesso l'abbiamo visto col Cagliari sotto di due l'abbiamo visto con la Lazio sotto di due e quindi fino a che la classifica non è veramente un disastro che dice oh mamma mia che non so nemmeno se ci puoi arrivare con la qualificazione della quinta in Champions te ne freghi perché poi hai su cinque partite di Serie A tre scontri diretti se ci pensi di squadre tra l'altro proprio contro la parte la certezza matematica ecco quindi loro fino a che non ci sarà eventualmente la Roma che davvero è lì che prova o l'Atalanta che magari non ci arrivi neanche perché sono le Euro che perdono dei punti questi non gliene frega assolutamente però è così puoi dire quello che vuoi però è così no no ho capito però non posso pensare che loro dicano cavolo il Milan è dimezzato cioè dobbiamo io non dico che non vogliono vincere proviamo a chiusare il tavolo di qualificazione almeno una volta chiusa ci concentriamo totalmente sulla finale di Coppa Italia e dopo ci godiamo l'estate ripartiamo l'anno prossimo sarei d'accordo con te senza queste 14 partite che abbiamo visto l'estate piove quindi sarei d'accordo con te ma c'è gente veramente che sta pensando dove vado in ferie chissà se mi convocano per l'europeo mi convocano quindi è meglio che vado un po' più c'è della gente che sta davvero facendo questi ragionamenti c'è anche della gente che non ci sarà più alla Juve gente che dice ma sai cosa quindi purtroppo il contratto a zero magari sta lì con calma purtroppo la situazione è questa ragazzi io vi ringrazio per questa chiacchierata quindi auguro a tutti una buona giornata di festività un buon ponte un buon inizio di ponte per chi lo fa grazie Luca buon antivigilia buon antivigilia grazie Chino e grazie Fra grazie ragazzi buona liberazione a tutti ciao 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 belli la liberazione manca il 26 sì uno il 25 aprile l'altro sarà il 26 di maggio dai dai no no ragiona ragiona io ragazzi la stappo in live è stato farò il sondaggio per la bottiglia e la stappiamo in live vaffanculo basta finita la stagione anche perché se poi arriva qualcuno a sentire questa roba dopo 47 minuti dai c'è e ci saranno e ci saranno vedrai scrivetelo 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 gargamella se siete arrivati fino alla fine scrivetelo la bottiglia che volete bere nome di vini nome di vini gargamella va bene va benissimo va benissimo come cazzo gli è venuto in me assolutamente ci stai onesto gargamella gargamella grazie a tutti